Sono giorni intensi per i comuni dell'area Bellicina dove le amministrazioni comunali stanno facendo scattare le diffide nei confronti dei cittadini che hanno soffrito di parte del contributo statale per la ricostruzione delle loro case e che poi non hanno dato seguito ai lavori previsti. Si tratta di un'azione di monitoraggio per accertare sulla scorta della documentazione presentata dai privati lo stato delle pratiche. A Santa Margherita Bellic è emerso che sono circa 50 le pratiche provviste di concessione edilizia e destinataria di un primo contributo statale ma con lavori interrotti già nella fase iniziale. L'ente locale sta diffidando i soggetti private a riattivare entro 60 giorni improrogabili dalla data di notifica dell'atto la procedura per la ripresa immediata dei lavori con la presentazione di nuove istanze per il rilascio della concessione edilizia e riconferma del contributo per i lavori da eseguirsi. Nel caso in cui non verrà presentata nessuna istanza o nel caso di mancato rilascio o rinnovo della concessione edilizia si procederà ad avviare le procedure per la revoca del decreto di concessione del contributo e ogni altro atto conseguenziale. A Santa Margherita Bellice molti cittadini, vittime del terremoto, hanno chiesto ed ottenuto le autorizzazioni per realizzare la loro casa attraverso un contributo statale ma non hanno dato poi seguito alla realizzazione delle opere. La gran parte dei soggetti destinatari delle diffide, i lavori per la nuova casa li hanno iniziati grazie ad un primo acconto ma poi si sono fermati lasciando inutilizzato il resto del contributo che il comune non può concedere senza un atto riguardante lo stato di avanzamento delle opere.